Ed eccoci qua, si continua naturalmente in questa rubrica, la rubrica del cerco lavoro e questa sera vi voglio presentare un altro ragazzo in cerca di lavoro. Anche lui è rumeno e si chiama? Raul. Raul, quanti anni hai? 23. Raul ha 23 anni, da quanto tempo ti sei trasferito qui a Trapani? Da due anni. Da due anni ed è costantemente in cerca di lavoro. Raul ha delle ottime intenzioni perché vuole diventare cittadino praticamente trapanese. Già sono trapanese. Sei praticamente sposato? Tutto residenziato e sposato no. Sposato no? Sei fidanzato con una trapanese? Sì. Già hai la residenza qui? Sì. Ah per cui ti puoi spostare perché sei motorizzato? Tutto. Perfetto, non ti manca niente, gli manca solo il lavoro. Il lavoro. A che genere di lavoro sei interessato Raul? Tutti i lavori, tutti i tipi di lavoro che si guadagni a soldi. Tutto. Basta che sia naturalmente un lavoro onesto. Basta che si trovano i soldi. Esatto, basta che sia un lavoro onesto e si guadagni bene. Certo. Dico bene? Certo. Per cui amici dalle spettatorie, non so, ripeto come poco fa, qualcuno magari potrebbe interessare un aiuto in casa o come caneriere, come banconista, muratore, la qualsiasi cosa. Raul è qui che appunto sta aspettando le vostre telefonate. Per tutte quelle di voi che possano interessate, chiamate. Chiamate al numero telefonico che state vedendo in sovimpressione. È il numero di Raul. Raul, 23 anni, rumeno. Trasferitosi a Trapani. Ok? Dico bene Raul. Cosa possiamo dire ai telespettatori e alle telespettatrici che ti stanno guardando? Le ringraziano se mi fanno un posto di lavoro. Vabbè. Amiche dalle spettatrici, amici dalle spettatori, telefonate. Telefonate per chi fosse intenzionato a dare lavoro a Raul, 23 anni, rumeno. Per la rubrica del cerco lavoro Alberto vi saluta e vi saluto naturalmente. Raul. Ciao ciao. Ciao ciao.